Abbiamo un problema, noi qua lavoriamo dalla mattina, martedì e sabato. Arriviamo stia mattina e non si può aprire perché l'ordine pubblico, la polizia ci ha fermato. Non sappiamo che cosa fare e cosa dire. Cioè il comandante dei vigili non ha detto niente. La polizia ha permesso di entrare in sé. Noi abbiamo pagato tutto, ma tutto, tutto. Voglio capire perché non possiamo entrare. Sospesso il mercato esplode la protesta degli ambulanti, circa un centinaio di loro, provenienti soprattutto da fuori provincia, che stamane intorno alle 7.30, dopo aver tentato comunque di raggiungere con i loro mezzi il piazzale, da sabato scorso nuovo terminal per i bus per allestire gli stand, perché i gnari dell'ordinanza hanno riferito, hanno dato vita a un sit-in nella diacente via dei Gasperi. Sul posto i carabinieri, la polizia, la digos e gli agenti della municipale, con il compito di garantire il rispetto dell'ordinanza comunale e la gestione dell'ordine pubblico. Dopo qualche momento di tensione, le inevitabili ripercussioni del sit-in sulla viabilità cittadina, la manifestazione è rientrata comunque su un binario del tutto pacifico, con l'Associazione Nazionale Ambulanti, che ha avviato una raccolta di firme per promuovere un'azione legale da parte degli esercenti. Un ricorso che sarà presentato al TAR contro la decisione del sindaco Geluca Festa di sospendere l'attività del mercato bisettimanale, fino a quando non sarà pronta la nuova collocazione per gli stand a Campo Genova. Dalla nuova sede del mercato, ha riferito il sindaco, ne saranno fuori i morosi. Intanto, vista la protesta, il terminal bus, almeno per stamane, è stato congelato. I pullman, dopo essere partiti dalle autorimesse, sono transitati infatti direttamente lungo le fermate, senza stazionamenti nel piazzale degli Irpini. In mattinata, una delegazione di ambulanti si è recata in prefettura, chiedendo a Palazzo di Governo di assumersi la responsabilità sullo stop imposto dal sindaco al mercato e di revocare con urgenza l'ordinanza, altrimenti avverte Rosato Marrigo dell'Associazione Nazionale Ambulanti. Porteremo il caso anche in Parlamento. Abbiamo chiesto al prefetto di assumersi le sue decisioni nei confronti del sindaco, affinché vengano immediatamente revocate tutte e due le ordinanze, quella con la quale viene trasferito il termine di pullman nel piazzale dove si svolge il mercato, l'altra in cui viene sospeso a Sinedie e disposto allo spostamento del mercato. Si è raggiunto il punto di incontro dove il prefetto si farà carico di convocare al più presto un tavolo di confronto dove noi ci possiamo confrontare direttamente col sindaco per dire finalmente tutto ciò che pensiamo di ciò che sta accadendo ad agosto.